Un pitbull di grosse dimensioni l'è saltato addosso, azzannando il bambino di appena due anni che teneva in braccio. Sono stati momenti interminabili di autentico panico, quelli vissuti da una mamma e il suo piccolo in via Brusade a Sandona di Piave, durante quella che fino ad un istante prima era stata una passeggiata in un tranquillo tardo pomeriggio. È un attacco imprevedibile perché è arrivato alle spalle. Per quanto dichiarato dal padrone dell'animale, il cane l'è sfuggito dalla sua conduzione a guinzaglio perché ha visto un gatto, ha dato una tirata e si è divincolato. Durante la rincorsa a questo gatto, non trovandolo più, purtroppo è andato sovraeccitato, è andato ad aggredire la prima cosa che ha visto in movimento, ovvero la mamma con questo frugoletto in braccio. Il proprietario del cane e il padre del bambino si sono precipitati per cercare di staccare il cane dalla presa. Oltre allo shock, la donna ha rimediato abrasioni al braccio sinistro per una prognosi di cinque giorni. Peggio è andate al figlioletto. Sono state date i cinque punti di sutura su una ferita lacero-contusa molto profonda, più varie abrasioni fatte dai secondi tentativi di morso dell'animale. Ma fortunatamente, ripeto, zoppicherà per un po', ma resterà una cicatrice che poi vedremo come andrà a sanarsi. Ma almeno non siamo andati a ledere una situazione di crescita e di struttura. I due genitori hanno sporto querela ai carabinieri di Sandona di Piave nei confronti del proprietario del cane, che ora dovrà rispondere di lesioni personali colpose. Riccardo Vizzi è il consulente legale dello studio 3A che sta seguendo il caso. Ci sono varie situazioni che un indagato, che poi diventerà imputato, può andare a richiedere, quindi un patteggiamento, un rito abbreviato. In questo caso potrebbero anche esserci presupposti per una messa alla prova, quindi commutare la pena ai lavori socialmente utili, oltre che una parte civile con una richiesta risarcitoria per le lesioni che il piccolo e la mamma hanno subito.